Ciao a Don Gogo, come promesso in questo video, oggi metto in condivisione questi pennelli a forma di bolle di sapone. Il link per IndonLound lo trovate nelle info, una volta scaricati dovete metterli nella vostra home, nella cartella dei pennelli. Se poi volete ricreare l'effetto di questa presentazione, dovete procedere in questa maniera. Aprite un nuovo livello, nero, ne aggiungete uno trasparente, andate nei vostri pennelli, eccoli. Quindi, diminuiamo la scala, 1, 2, 3, 4, 5. e 6. Adesso aggiungete un nuovo livello, ok. Applichiamo render nuvole plasma, sistema, seme casuale, disturbolenza, 3, ok. Poi a questo livello gli applichiamo un filtro disturbo, distorsioni, scusate, distorsioni, increspature, seno va bene, distorsione, periodo 20, ampiezza occhi, tanto poi dobbiamo ancora distorcere. ok, poi filtri sempre distorsioni, questa volta ai warping, mettiamo il torcicenzo orario e ci divertiamo a fare questo lavoro qua. Sposta. Torcicenzo orario, insomma. diamo ok. E questo livello lo settiamo in sovrapposto. Ecco le vostre bolle di sapone, con un effetto simile alle bolle quando le creiamo con il soffio di venta. Ok, un ciao a tutti, da NegoGo, ciao. Grazie.